buongiorno a tutti e buona festa dell'immacolata vieni qua ti vedere facci facci buona festa dell'immacolata a tutti allora che tossina che già questo bimbo allora ragazzi io noi ci siamo appena svegliati solo le 9 di giorno 8 appunto festa dell'immacolata e adesso sto facendo i cornetti per me niccolò eccoci di nuovo il mio bimbo sta facendo merendina si beve l'attuccio è vero allora adesso che facciamo ci mangiamo il cornetto si facciamo colazione amore mio amore amore a dopo ragazzuoli i nostri cornetti sono pronti il mio bambino è già posizionato allora aspetta che non gli passo vedi che brucia però è vedi che brucia vedi che brucia quello mio mamma questo è di mamma questo è di nino come bello questo cornetto questo cornetto è vuoto ragazzi eh non è quello delle tre marie brucia soffia soffia guardate come soffia brucia oh 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 mio dio brucia 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 mamma come brucia soffia soffia mamma soffia e adesso noi facciamo colazione ragazzi finalmente oggi una bellissima giornata di sole quando sei al sole amore dimmi quando sei al sole è caldissimo finalmente raga che bello ok e niente e noi ci dobbiamo andare a preparare perché dobbiamo pranzare fuori nicolò vieni qua mamma vieni raga guardatelo lui il vestito di coso con papà nadale Nicolo guarda raga guardate come c'è bello qua quale vuoi quale ti vuoi prendere la poppetina questa è buona guardate come balla Nicolo guarda lui no vabbè è incredibile sta ballando a tre ore adesso ho da qui non è una mappa non è una mappa non è una mappa Ciao Ciao Grazie E la bellina di Ninnino Wow Che cos'è? Wow Vai così, vai così Noi siamo qui ancora Vediamo Che c'hai trovato? Io già Chi va a mamma? Guarda quanto è bello Ci ha trovato questo Ragazzi che stanchezza Finalmente siamo tornati a casa Non vi dico Non vi dico La gente che c'era Io non ho potuto riprendere tanto Giusto pochissimo Perché c'era tantissima gente Niccolò mi camminava lungo i tavolini Quindi non potevo Dovevo stare sempre vicino a lui Però è stata una bellissima giornata Ci siamo divertiti E abbiamo ballato Cantato E veramente è stato Ci voleva Ci voleva questa Questa piccola uscita così Perché Ogni tanto bisogna farlo Io sono rimasta contenta Che siamo andati Per fortuna Niccolò con la tosse Un po' si era Tranquillizzato Se no infatti Ero incerta di andare O non andare Però poi ho visto Che stava meglio Quindi allora Ne abbiamo approfittato Fortunatamente Perché lui Si è divertito tantissimo Da come avete potuto vedere Era talmente felice Ma talmente felice Ballava Qualche video l'ho fatto L'avete visto prima Però Credetemi raga Cioè Eravamo praticamente I tavolini Tutti attaccati E Non si poteva Non si poteva fare un video Però Voglio dire Qualcosina ve l'ho fatta vedere Quindi questo è Allora Io mi auguro Che anche voi Avete passato O comunque state ancora Perché non è finita la giornata Una Buona festa Della Dell'Immacolata E È stata una cosa diversa Una cosa diversa Che io Sono rimasta molto contenta Io mi sono già cambiata Raga Perché credetemi Cioè Nel senso Mi sono dovuta Un attimino riprendere Lui poverino In macchina Si è addormentato Perché era Veramente stanco Questa mattina Si era svegliato alle sette Quindi È crollato Infatti adesso Sta dormendo È questo Io vi auguro Una bellissima Giornata Un continuo E ci vediamo Domani Con un nuovo video Ragazzi Vi raccomando Se non vi siete iscritti Sul mio canale Iscrivetevi Per non perdere Gli altri video Soprattutto Attivate la campanellina Vi mando Un bacione Grande Grande Ci vediamo domani Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi